Eccola qua, una semi-automatica, addirittura con uno stemma spartano ragazzi, vabbè qui non c'è nulla da dire, è la mia, era assolutamente destino che la trovassi, stemma spartano per lo Strenus, benissimo. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di Strenustrice, bentornati nella nostra grande avventura su Dates, avventura logicamente di sopravvivenza. Ci stiamo recando ragazzi, vi ricorderete del gameplay precedente che trovate in descrizione del video della playlist Dates, eravamo arrivati a Tulga, questa cittadina assolutamente che non ci ha offerto nulla di che, ma ci ha rifocillato. Oggi ragazzi dove andremo? Andremo verso, vediamo un po', io direi ragazzi di marciare verso questa città, Mista, Mista che dir si voglia, dove ci sono anche ragazzi, se abbiamo fortuna, dei mezzi. Si trova circa, vediamo un po' ragazzi quanta distanza, eccola qua, circa 1400 metri. Dovremmo essere davvero abili ragazzi per raggiungerla e soprattutto per armarci. Non ricordo bene dove sono le città diciamo con più armamentario, ma mi ricordo appunto nelle zone militari. Vi ringrazio davvero ragazzi, logicamente ne approfitto per tutti i consigli che mi state dando in questa grandissima nostra avventura, che speriamo duri appunto tanto e che non venga shottato da qualche appunto bandito per strada. Ma facciamo un pochino di rifornimento di acqua ragazzi, quando siamo Staffed ripartiamo verso Mista. Perfetto ragazzi, siamo prontissimi, come potete notare siamo belli Staffed e tutto il nostro equipaggiamento è assolutamente pristine. Abbiamo ragazzi, ho dato anche un'occhiata ai vari tool, ai vari crafting che si possono creare e sono davvero tanti ragazzi, possiamo farci il fuoco, mi avete consigliato davvero tantissime cose. Intanto diamo un'occhiata se sono rimaste all'interno di queste piccole casette qualcosa di interessante, qualche loot davvero da portarci con noi e poi ragazzi ci avviamo nel nostro grande viaggio. Dunque ragazzi ho appena trovato dei proiettili, attenzione dei 7.62x51mm e anche una punta di freccia, esatto composite Arrow, queste ragazzi dovrebbero essere appunto le frecce della balestra se non erro. Intanto qui abbiamo sempre Summer Hunter Paints che però non hanno nulla a che vedere con i nostri stilosissimi paints, cargo paints, quindi possiamo assolutamente avanzare. Intanto ragazzi guardo se è possibile caricare questi proiettili all'interno del nostro bellissimo SKS. Allora diamo subito un'occhiata ragazzi assieme, vediamo un po'. Ok, mi sembra di ricordare che sono questi ragazzi, quindi già in questo gameplay potremmo iniziare a sparacchiare o comunque difenderci. Imbracciamo subito l'SKS ragazzi, ok prima persona per noi, benissimo, vediamo se possiamo ricaricare. Chiaramente non si fa così, perfetto, bisogna fare esattamente in questo modo. No, esattamente, non vanno bene, speravo ragazzi andassero bene, ma non sono assolutamente quelli appropriati, non sono i 7.62, quelli giusti. Quindi ragazzi possiamo assolutamente mettere via il nostro SKS e come dicevo prima, senza perderci in chiacchiere, diamo una piccola esploratina qua in giro e poi partiamo verso Muscat. Allora ragazzi, mi avete detto che le chemlight blu e gialle non saranno assolutamente un ciuffolo, quindi le posso assolutamente gettare via. Eccole qua ragazzi, intanto ho trovato in questo capanno antico un Portable Gaze Stove, che sarà ragazzi appunto una portantina di gas portatile, molto utile. Intanto possiamo notare che ci sono anche delle gran vanghe in giro, ma la situazione si può far tragica ragazzi, non vi ho detto che sono in un server abbastanza popolato, anche un server italiano. Quindi ragazzi dobbiamo stare davvero davvero in guardia. Allora, falcetto per terra, non ci interessa, proseguiamo quindi arditi. Attenzione ragazzi, sono entrato in quest'altra casa di legno, cosa che di solito non bisogna mai fare, per il solito motivo che non si trova mai nulla. Ma guardate che cosa c'è qua, una bella pistola, attenzione per lo Strenus, una 1911, tamarrissima e anche pristine. Questa ragazzi è un must, bisogna assolutamente prenderla. Allora, prima di prenderla però, cosa possiamo fare? Vediamo, possiamo gettare sicuramente la nostra vernice, benissimo. E prendiamo anche ragazzi quindi la nostra bella pistola, attenzione alla pistola. Vediamo subito ragazzi se possiamo, esatto, switchare un attimo solo qualche oggetto. 1911 per noi, assolutamente, vediamo un po' ragazzi. Eccola qua, una semi-automatica, addirittura con uno stemma spartano ragazzi, vabbè qui non c'è nulla da dire, è la mia. Era assolutamente destino che la trovassi. Stemma spartano per lo Strenus, benissimo. Allora, vediamo subito ragazzi di imbracciare la nostra pistola, sono quasi certo che ci vadano forse 9 mm, non vorrei dire una cavolata. Ma intanto, appunto, mettiamo a posto il nostro equipaggiamento. La pistola chiaramente avrà lo slot 2, mentre il martello lo slot 3. Perfetto ragazzi, ho dato una messa a posto al nostro inventario. E possiamo notare anche che, appunto, è una bella pistola. Diamo un'occhiata in prima persona. Da fuck, morbida. Assolutamente scarica, ma molto morbida. Molto morbida nella visibilità e assolutamente, vediamo se possiamo settare anche la distanza. No, in questo caso no. Va bene ragazzi, direi che possiamo procedere. Nell'armadio ho trovato qualcosa, ho visto qualcosa. Una scatoletta di tonno, credo esattamente. Prendiamo su anche questo ragazzi. Al cibo, chiaramente, non rifiutiamo mai. Allora, mettiamo via anche, chiaramente, questo bel fucile. Il cibo, chiaramente, ragazzi, non lo lasceremo, certamente, qui. Bene ragazzi, proseguiamo quindi con la nostra ricerca assolutamente pro nell'anima. Questa cittadina, devo dire che in questo nuovo server, ci ha dato tante cose in più. Tantissime cose in più, benissimo. Intanto qua abbiamo una mappa di Cernarus e ce ne freghiamo assolutamente le chiappe di questa. Bene ragazzi, procediamo. Intanto ragazzi, ho trovato una vernice verde. Voglio vedere se posso pitturare, assolutamente no. Volevo pitturare anche la mia 1911, ma devo ammettere che infatti sarebbe una stupidaggine, dato che, diciamo, lo stile e l'eleganza classico è molto, molto meglio. Allora, qua abbiamo le Athletic Shoes assolutamente usate, non ci servono per nulla. E qui c'è una patata rotten, forse, vediamo un po'. Assolutamente worn, mentre invece le Kenned Tuna, beh, siamo carichissimi di cibo, ragazzi. Però il cibo, ho capito che non è una priorità e possiamo anche lasciarlo qui, quindi andiamo avanti assolutamente spediti. Dunque, ragazzi, abbiamo l'imbarazzo della scelta. In questo server sto trovando armi a tutto spiano. Ho trovato anche uno shotgun. Qual è il problema per lo Strenus con lo shotgun? Il problema, ragazzi, è che siamo davvero carichi di armi, già. Abbiamo una pistola, un SKS. Mi piacerebbe portarlo con me, ma preferisco tenermi tutto questo cibo, ragazzi. Di armi a breve distanza ne abbiamo. Anche se, chiaramente, lo shotgun è un'arma che mi piace davvero tanto. Dunque, ragazzi, stavo spazzolando l'ultima casa e ho trovato una Cooking Pot. Sarebbe quindi una pentola. E non so assolutamente se la devo prendere. Vediamo un po', ragazzi. The fuck? Ho preso la pentola, ragazzi. Credo di averla messa sopra... Vediamo un po'. Esattamente. Ho messo, ragazzi, la pentola sopra il nostro distributore di gas. Ed è diventata una Portable Gas Stove. Quindi una vera e propria postazione mobile per cucinare. Benissimo, ragazzi. Possiamo assolutamente procedere. Chiaramente, però, cosa è successo? Ho dovuto mettere a terra una scatoletta di tonno. Io, ragazzi, direi di non lasciare nulla per terra. E di assolutamente portare tutto con noi. Quindi vediamo un po', ragazzi. Eccola qua. La nostra canna di Tuness. La possiamo mangiare. Dopo averla, logicamente, eccoci qua, aperta. 100% remaining. E direi, ragazzi, di mangiarcela tutta per non sprecarla. Bene, ragazzi. Mentre il nostro grande amico si ingozza, noi, appunto, aspettiamo. Ci ribecchiamo. Siamo pronti per una marcia verso Mensk. Perfetto. Abbiamo appena finito, ragazzi, di mangiare tutto. Siamo davvero energizzati. Davvero potenti. E adesso ci aspetta una grande marcia. Non dobbiamo, però, sbagliare, logicamente, ragazzi, la direzione della nostra grande marcia. Vediamo che la strada principale è direttamente un proseguo della via che dobbiamo intraprendere. Quindi, ragazzi, cosa faremo? Ci metteremo, appunto, sulla via. E poi andremo dritto per dritto, senza sbagliarci. Lungo la strada, ragazzi, potremo trovare, come vi ho detto, nella nuova città che stiamo per visitare, anche dei camion. Anche delle, appunto, macchine che possono muoversi liberamente in questo grandissimo mondo di dates. Cosa che assolutamente, ragazzi, vorrei provare assieme a voi. Allora, diamo subito un'occhiata, quindi, al prolungamento della strada principale. Vediamo un po', ragazzi. Noi siamo qui, più o meno, esattamente qua. Andremo direttamente dritto per dritto. E questo ci porterà, come dicevo precedentemente, vediamo subito, con un po' meno di zoom. Eccoci qua, perfetto. Amsta. Bene, ragazzi, quindi andiamo avanti e procediamo. Potremo incontrare, chiaramente, sul cammino degli animali. Noi ci ribecchiamo, logicamente, quando ci saranno cose interessanti lungo la strada. Ricordiamoci che il cammino è pieno di gente. Dunque, ragazzi, davanti a noi siamo arrivati su questo aspro frammento di terra altissimo, su questa bella montagna. E siamo circondati da bellissimi alberi in autunno che stanno, appunto, cambiando colore, ragazzi. Davanti a noi c'è una strada sterrata. E vediamo un po' se risulta sulla mappa. Dovrebbe essere, ragazzi, forse un sistema di queste stradine interne che non vengono segnate, non è una strada principale. Quindi, ragazzi, noi proseguiamo dritto per dritto e speriamo, appunto, di non esserci già persi. La cosa sarebbe assolutamente terribile per quanto siamo coperti e assolutamente ricchi di cibo. Dunque, ragazzi, mi sto ritrovando su questa stradina sperduta, che non credo sia strada principale, assolutamente. E mi sono imbattuto in questa struttura strana. Comunque, questo gioco, ragazzi, è troppo bello. Cioè, dà troppo l'impressione di essere, appunto, un sopravvissuto post-apocalittico. Fantastico. Vediamo un po', ragazzi, assieme cosa possiamo trovare in questa struttura e se viene riportata nella mappa. Allora, abbiamo trovato una vanga e delle scarpe. E anche una cosa importante, ragazzi, che ho gettato, appunto, un po' stupidamente nei gameplay precedenti. La corda. Con la corda, ragazzi, si possono craftare tantissime cose utili. E, appunto, consiglio vivamente di prenderla. Si può fare anche un arco, ragazzi, se troviamo l'oggetto giusto per, appunto, craftarla assieme alle corde. Quindi direi di gettare qualcos'altro e portarci via le corde stesse. Io, ragazzi, direi che tra tutte le cose la chiave e la wrench la possiamo buttare, dato che, appunto, non credo si possono ancora riparare gli oggetti. E ci portiamo, appunto, a presso, ragazzi, la nostra bella corda appena trovata. Intanto direi di metterci un attimo, ecco, nascosti nell'angolo per dare un'occhiata se risulta, appunto, questo ambiente. Per me, ragazzi, siamo finiti da questa parte. Siamo finiti da questa parte assolutamente. Non siamo nella fase sbagliata. Seguendo esatto, viene, verete, ragazzi, viene riportata anche questa stradina. Ci siamo spinti un po' troppo a sinistra. Dobbiamo rientrare leggermente. Da qui dobbiamo andare. Ecco qua, verso nord. Verso nord-nord-ovest. In modo tale da riuscire, appunto, a risalire la collina. Quindi andremo esattamente da quella parte, ragazzi. Dritto per dritto, quindi. Dovremmo, appunto, essere dalla parte giusta. Intanto diamoci sempre un'occhiata alle spalle e un pochino attorno per vedere se c'è qualcuno oltre a noi in questo mondo post-apocalittico affascinante. Ragazzi! Ragazzi, ho trovato un suino vegetale enorme! Da fuck! Allora, mettiamoci crouch un attimo e prendiamo fuori il martello gigante di Baltimora. Vediamo, ragazzi, di avvicinarci al suino vegetale. È la prima volta che incontro un animale, ragazzi, perché non l'avevo mai incontrato. Da fuck! È il momento di avvicinarci al mega suino. Credo sia anche un facocero. Spero che non ci attacchi. Siamo un cinghiale, scusate, non un facocero. Non siamo in Africa. Attenzione. Ecco lo Strenus che si avvicina, furtivissimo. No, no, no! Non scappare, da fuck! Ok, in seguimento del facocero, ragazzi. Non deve assolutamente sfuggirci. È velocissimo, mamma mia! Eh, credo che il facocero, ragazzi, l'avrà vinta. Assolutamente sì. Eh, qui non sono stato molto stealth. Vieni qua, facocero gigante. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Vediamo un po' se ce la faccio. L'ho preso? Sì, l'ho preso. L'ho preso, ragazzi, l'ho preso una volta. Cerchiamo di seguirlo ancora. Ah, mia che orecchie giganti che è. Attenzione. Vediamo subito, ragazzi, di prendere il facocero. Potrà darci carne assolutamente utile. E forse che qualche sistema di crafting. Mentre io mi sto inoltrando nella foresta più oscura. Pensavo che con un colpo andasse giù, ragazzi. Vediamo di recuperarlo. Dunque, ragazzi, non so per quale oscuro motivo, ma il facocero si è volatilizzato. Più o meno da queste parti. E quindi ci è sfuggito. Torniamo a quello che stavamo facendo. Intanto però abbiamo visto anche una cosa nuova che appunto non avevo mai potuto ammirare. Ovvero anche la selvaggina di questo bel game. Speriamo solamente la prossima volta, ragazzi, di avere arco e frecce che sicuramente ci faciliteranno un pochino la caccia sempre che non sparisca nel nulla. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Mi sono un pochino spinto nell'entroterra. Vediamo subito di cercare quindi la stradina principale. La stradina questa qui, eccola, che ci porterà inequivocavelmente a Mista. Dunque, ragazzi, sono tornato sulla strada principale o meglio, sulla stradina di campagna. E possiamo notare che davanti a noi c'è un'altra struttura, attenzione. Sembra tipo, forse un veicolo mal ridotto. No, una capanna, una capanna, ragazzi. Diamo un'occhiata anche se non mi piace molto questo ambiente perché è molto, molto libero. Guardate che bel panorama, però. Mamma mia, da fuck. Molto bene. Allora, qua c'è una lavatrice usata su cui potremmo sicuramente rifocillarci e assolutamente lavare qualche panno. Diamo un'occhiata a cosa abbiamo qua. Sempre un kit del pulito. E che cosa abbiamo? Uno spray alla vernice verde. Direi che non ci serve nulla di tutto ciò, ragazzi. Intanto, però, vediamo se sulla mappa risulta questo luogo. Esatto, ragazzi. Dovremmo essere da questa parte, esattamente in questa località. Dobbiamo seguire la strada che va esattamente oltre la collina, quella collina davanti a noi, e saremo a Msta. Ragazzi, vedendo questa via che si innalza verso i cieli, mi viene anche da cantare un po' sulla strada ancora, come facevo tanti tempi fa. E direi che tutti assieme possiamo dire sulla strada ancora. Ci ritroviamo sulla strada ancora. A parte gli scherfi, ragazzi, mi trovo in una situazione molto sfavorevole. Cioè, se qui ci fosse un cecchino anche dall'altra parte della via fino a 2-3 km sarebbe un obiettivo talmente facile che potrebbe prendermi a occhi chiusi. Speriamo chiaramente nel fato e che nessuno ci infili appunto una pallottola direttamente nella schiena o nella testa, peggio ancora. Dritto per dritto, ragazzi, Msta sta per essere razziata dallo Strenus Survival Pro di Baltimora e con tutti i voti. Ok, ragazzi, incominciamo a vedere qualche casa. Direi che siamo nel posto giusto e anche al momento assolutamente giusto. Laggiù in fondo vede una capanna e non mi dispiacerebbe andare a darci un'occhiata, ragazzi, prima di infilarmi in città. Quindi saltiamo agevolmente questo muretto, cosa che il mio personaggio non vuole fare assolutamente. Piccola rincorsa del Drago Rosso non lo fa assolutamente. Quindi, ragazzi, faccio il giro e andiamo giù a vedere cosa si nasconde in quella casa, in quella casetta in Canada. Mentre, ormai, siamo assolutamente arrivati a Msta, dato che dietro questi alberi appunto ho visto una specie di Msta, visto? Comunque suona sempre bene. Ho visto, ragazzi, dicevo, una bella casetta. Quindi, ragazzi, prima la casetta di legno che ci ha dato tante soddisfazioni a Tulga e poi entriamo in città. Speriamo davvero di trovare anche il veicolo. Perfetto, ragazzi, sono arrivato nell'aia di quella che poteva essere forse una fattoria. Direi proprio di sì, una legneria forse, una falegnameria. Eccoci qua. Abbiamo trovato un Sewing Kit che direi di usare subito, ragazzi, sui nostri bellissimi pantaloni. Sui Cargo Paints che non sono ancora al massimo splendore. Vediamo subito di usarlo e ripararli ancora. Perfetto, ragazzi, ho dato una bella rassettata ancora ai nostri pantaloni e direi che sono sempre più splendenti, ragazzi. Siamo vestiti nuovi di pacca dalla testa alla punta dei piedi. Direi subito di proseguire. Attenzione cosa trova lo Strenus. i Matchbox adesso sono essenziali, ragazzi, perché li ho buttati l'altra volta stupidamente. Invece con i Matchbox, chiaramente con i Fiammiferi, possiamo accendere forse la nostra bella pentola portatile. Chiaramente ci servirà del cibo come carne di suino vegetale che mi è scappato poco fa. Do ancora un'occhiata, ragazzi, in questa bella fattoria che esploriamo assieme. Attenzione, qua ci sono sempre i cappelli dei Village People. Vediamo un po'. Abbiamo anche un cacciavite non ci serve. Possiamo procedere direttamente con la zona principale. Comunque sì, era sicuramente una legneria, una fallegnameria. Davvero bella, ragazzi. Esploriamola assieme. Allora, ragazzi, qua abbiamo trovato una specie di papalina che appunto non consiglierei a nessuno. Sempre dei kit del cucito. Credo che non troveremo robe interessanti, ragazzi. Vediamo un po' di girare in giro e cercare altre cose. Abbiamo trovato anche, vediamo un po', delle scarpe Working Boots, quindi delle scarpe da lavoro alquanto danneggiate. Io di rilasciare tutto qua, ragazzi. Intanto comunque questa avventura mi sta prendendo sempre più. Questo gioco, ragazzi, è davvero affascinante. Se avete possibilità, logicamente, provatelo. Perfetto, ragazzi. Possiamo quindi abbandonare la nostra bellissima fallegnameria, la nostra segheria nella foresta e avviarci verso la più grande Mnsta, la più grande città che appunto ci aspetta dritto per dritto dietro questo crinale. Ci ribecchiamo quando l'abbiamo praticamente raggiunta. Intanto, ragazzi, ne approfitto per salire su questa struttura. Queste sono le strutture di avvistamento per la caccia, credo servissero. E sono molto, molto utili. Attenzione però perché lo Stenus con le alture non è mai andato d'accordo. Sarò molto attento a non finire di sotto se no sarebbe una tragedia. Eccoci. Da questa parte, anche se non molto comodo, possiamo dare un'occhiata davvero interessante, ragazzi. Immaginate quando avremo dei cecchini e incontreremo qualcuno da questa distanza. Chiaramente faremo poche domande e apriremo il fuoco diverse volte. Bene, ragazzi. Allora, io direi di scendere e ribeccarci come ho detto prima quando siamo arrivati a Mnsta. Dunque, ragazzi, siamo giunti al posto giusto. Niente giochi di parole. Da fuck c'è già... Mamma mia, ho preso paura! Uno zombie heroes, ragazzi. Questa volta non dobbiamo farci assolutamente danneggiare l'equipaggiamento. Selezioniamo subito il nostro grande martello di Baltimora premendo il tasto 3 e userò tutti i consigli che mi avete dato. Cioè... No, no, no! Primo consiglio. Scappa, fuck! No, Strenus! Tira fuori il coltello. Ok, ok, che perfetto. Tira fuori il martello, volevo dire. Ok, attenzione. Mi avete detto, ragazzi, colpiscilo e gira, Strenus. Colpisci e gira. Perfetto, ha funzionato molto bene, direi. Però devo subito usare Tear. Eccole qua. Le nostre rugs, scusate. Per fasciarci le ferite. Bene, ragazzi. Siamo entrati in città e già ci hanno colpito in malo modo. Però siamo belli energizzati e non dobbiamo temere assolutamente nulla. Fasciati, ci siamo fasciati adesso. Non dovremo più sanguinare. Esatto. Eccoci qua, perfetto. Non sanguiniamo più. Siamo ancora energizzati, quindi non ci saranno deficit a livello colorato. Ma siamo nel posto giusto, ragazzi. La presenza di zombies significa che siamo appunto arrivati in una città grande ed è Msta. Entriamo, ragazzi, in questo bel capannone. Attenzione qua. Bisogna stare attenti a non volare giù dal sistema di scale. Questa sarebbe una cosa molto pericolosa. Intanto giro col mio martello dei Thor. Il mortale da non essere assolutamente preso di soppiato da qualche altro zombie simpaticone. E possiamo vedere che ci sono le leather shoes, quindi le scarpe in pelle. Direi che è qualcosa di troppo esagerato per un vero survival heroes. Mentre qua abbiamo dei dark blue jeans. non mi interessano assolutamente. I cargo paints sono sicuramente, ragazzi, superiori. Continuo a dare un'occhiata a questo fienile per vedere se c'è qualcosa di davvero interessante a parte una zucchina a marcia. Ragazzi, ho trovato un, credo sia, una specie di sistema per dar la scossa alla gente. Electric Cattle Prod. Diamo una inspect. Assolutamente sì, ragazzi. È una specie di teaser enorme. Serve, ragazzi, per rendere una persona un animale, credo, praticamente inerma senza ammazzarlo. È un'ottima arma, assolutamente pro nell'anima. Direi di caricarcela, di portarla con noi, ragazzi, al posto. Vediamo un po' se possiamo anche, vediamo quanto occupa. Non occupa neanche esageratamente. Dobbiamo mettere a posto un po' il nostro inventario, ragazzi, prima. Direi, ragazzi, di portarlo al posto di questo che fa la stessa cosa, mi avete detto, ed è anche danneggiato. Quindi prenderemo l'Electro Kettle Prod, eccolo qua, ragazzi, e lo metteremo al posto del nostro Stoombatton, dato che è una versione avanzata dello stesso. Allora, facciamo un po' di ordine come dicevo e lo prendiamo. Perfetto, ragazzi, abbiamo anche il nostro sistema che danneggia l'avversario. Vorrei provarlo assieme a voi se funziona già direttamente. Vediamo subito, ragazzi. Allora, attenzione, prima vorrei scendere delicatamente se possibile. Eccoci qua. Non mi ricordo, ragazzi, come si fa a camminare per evitare di rimanerci secco. Bene. Allora, ok, perfetto, ragazzi. diamo subito un'occhiata al nostro nuovo oggetto. Eccolo qua. In prima persona. Dovrebbe, ragazzi, funzionare. Credo. Esatto, però non so se c'è la batteria. Diamo un'occhiata, ragazzi. Credo, ragazzi, ci voglia la batteria per farla funzionare correttamente, però intanto abbiamo un'altra arma sicuramente molto molto utile. La metteremo al posto dell'acqua e l'acqua andrà in slot qui. Anzi, ragazzi, diamo una piccola sistemata. Perfetto, ragazzi, ho finito l'esplorazione del fienile e non c'era null'altro di interessante e possiamo proseguire la nostra bella avventura verso il centro cittadino stando chiaramente molto molto attenti. Allora, diamo un'occhiata anche dentro questi sistemi di pollai. Green bandana cap. Questi ragazzi non sono male, però preferisco ancora il cappello da cecchino di Baltimora, da Sanpei, diciamo, in vacanza. Andiamo verso quindi il centro cittadino, ragazzi, non si può sbagliare. Dovremmo essere su questa stradina, noi, esattamente, e stiamo appunto arrivando al centro di Msta. laggiù in fondo, ragazzi, pochi passi, è già noto 3-4 zombies, 3 zombies che vagano, attenzione, che vagano con fare sospetto. Direi se possibile, esatto, perché siamo arrivati in città, pienamente in città, ragazzi. Dobbiamo luttare il luttabile e gireremo chiaramente armati del nostro grande martello di Baltimora, anche perché uno zombie mi ha già visto, ragazzi. Sta arrivando verso noi il battitore streno. Ah, fuck, ce n'era già un altro. The fuck? Ok. Uno. Uno. Dai! E uno, andato, perfetto ragazzi. Secondo. Uno. Andato. Facciamolo secco, anche perché sto sanguinando. Direi ragazzi che la strategia per quanto faccia venire mal di testa funziona abbastanza bene, sì? Ok, siamo a quota 4, ce n'è anche per te amico mio. Battitore Strenus, il migliore di Baltimora. E non si scherza, fuck! Ok. Prendilo. Non lo prende? Dai, prendilo. Ok, molto bene. Direi ragazzi che abbiamo ammazzato tutti quanti gli zombies che stanno appunto a crogiolarsi al sole, meglio per loro, però stiamo appunto sanguinando. Direi di usare un'altra Rags. Ok, perfetto amico mio. Fasciati pure ragazzi, vediamo subito quanto lo Strenus sia migliorato negli impatti grazie ai vostri consigli contro i cannibali, che sarebbero appunto gli zombies. In un gioco lo dico in un modo e in un gioco dico in un altro, assolutamente senza mai prenderci, però possiamo appunto proseguire ragazzi nell'esplorazione. Direi che adesso è tutto pulito, il fatto che ci siano zombies mi fa piacere perché vuol dire che forse sono il primo a mettere appunto le mani su questa città. Dunque ragazzi ho appena trovato una bussola danneggiata, direi di lasciarla qui dato che non penso funzionerà. Poi una maschera saldatore e qui cosa abbiamo? Garden Lime immagino sia tipo il concimo o il terriccio. Lasciamo qui anche questo ragazzi, chiaramente proseguiamo col martello basso per essere leggermente più rapidi nei movimenti. Dunque ragazzi prima di inoltrarci troppo a fondo nella città vorrei dare un'occhiata sempre con voi sul fatto della strada. Noi siamo entrati da qui quindi dovrebbe esserci qua attorno il V3S che dovrebbe essere appunto il camion ragazzi. Diamoci bene 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 un'occhiata attorno perché se davvero siamo i primi dovrebbe esserci ancora il camion qua le strutture sono tutte ancora chiuse. speriamo davvero di essere fortunati. Intanto entriamo in questa specie di vecchio rivenditore di frutta davvero una città spettrale ragazzi davvero spettrale questa città attenzione una chemlight e qui cosa abbiamo? Sembrano dei proiettili o di un matchbox un po' ragazzi calibro 22 50 rounds bene 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 non so come mai questo venditore di frutta e verdura avesse con sé dei calibri così alti ma direi proprio appunto di aprirle assieme. perfetto ragazzi calibro 22 non so se vanno bene forse per la pistola certamente forse ma non ne sono certo diamo un po' un'occhiata se vanno bene no assolutamente non vanno bene ragazzi l'SKS meno che meno immagino però diamoci un'occhiata assolutamente no siamo carichi ragazzi di proiettili che non ci servono assolutamente a un tubo per quanto comunque potremo trovare in futuro armi che appunto saranno compatibili con essi continuiamo a esplorare la città ragazzi se ci sono novità scottanti chiaramente le vedremo assieme intanto bellissimo lampione post apocalittico qui sopra la casa ragazzi ho trovato altri proiettili punto 380 e direi subito appunto ragazzi di dare un'occhiata sembrerebbero quelli forse per lo sniper per vediamo un po' ragazzi si il fucile di precisione io direi di prenderli comunque sia e direi anche ragazzi di evitare di non mangiare di buttare via una scatoletta per prenderli e ce la mangiamo perfetto ragazzi abbiamo aperto una scatoletta direi di mangiarci la tutta per quanto siamo già energizzati però non vedo perché buttare via una scatoletta intera preferisco appunto ingurgitarla e al limite riempirmi ancora di più lo stomaco già pieno e per poi prendere appunto questi proiettili ragazzi sperando che vada bene anche per l'SKS ne sarei davvero contento perché finalmente avremo una vera arma da fuoco funzionante allora vediamo subito quindi di mettere i proiettili qui eccoci qua ragazzi di aprirli assieme questa volta abbiamo un mamma mia no sono troppo piccoli credo forse vanno bene per la nostra pistola non vanno bene assolutamente ragazzi abbiamo tre tipologie di proiettili assolutamente diverse tra loro provo anche l'SKS ma sono quasi certo che non vadano assolutamente bene esattamente non vanno bene neanche per l'SKS ok ragazzi proseguiamo chiaramente non abbiamo sprecato nulla possiamo procedere anzi guardate un po' ragazzi cosa troviamo qua troviamo un macete anzi un coltello da cucina e le sardine messe meglio in assoluto io ragazzi direi di buttare a questo punto il sewing kit mi dispiace ma questo non ci serve per nulla e di liberare due slot per adesso appunto abbiamo tutti i vestiti messi abbastanza bene vediamo un po' ragazzi assolutamente forse qualche cannibale ci ha danneggiato giusto esatto il green hoodie ma non si ripara appunto con quel tipo di sewing kit dunque ragazzi ho appena trovato il black hoodie pristine e guardate un po' il nostro è rovinato direi che poi black ci sedisce molto di più direi di fare una cosa ragazzi quindi un trasferimento di oggetti all'interno del nostro nuovo direi bellissimo maglione della nostra nuova felpa ed indossarla correttamente perfetto ragazzi abbiamo un nuovo stile assolutamente aggressivo e assolutamente pro nell'anima come sempre e appunto direi di andare avanti ragazzi stiamo trovando cose interessanti qui siamo quasi certamente prima a passare dunque ragazzi mi sto avvicinando a questa particolare casa con la bellissima eccola qua con la bellissima cassetta della posta stile appunto unione sovietica e direi di andare avanti a vedere un po' cosa si annida qui dentro siamo una struttura davvero attenzione però porta aperta non mi gusta attenzione strenus prendi la rasputin quella la prendiamo sempre attention porta aperta ragazzi non mi piace non mi piace per niente la situation però anzi sembra anche tutto bello vuoto intanto troviamo anche un black boni hat per quanto il nostro ragazzi sia prestine direi che faremo un nuovo equipaggiamento più scuro più aggressivo e va benissimo bene ragazzi possiamo proseguire anche se questo fattore non mi piace molto ragazzi credo di aver trovato forse l'arma più forte del gioco l'arma bianca più forte del gioco la guardiamo assieme a terra che è l'ascia da pompiere direi subito ragazzi quindi di dire addio al nostro grandissimo eccolo qua al nostro grandissimo martello di Thor lo gettiamo a terra lo sledgehammer guardate anche le dimensioni dell'ascia ragazzi è qualcosa di enorme e ci prendiamo appunto questa quest'ultima benissimo ragazzi la prendiamo la mettiamo chiaramente nel nostro inventario personale e già va a occupare il terzo slot del nostro equipaggiamento veloce in basso nella barra bene 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 ragazzi almeno questa città ci ha offerto se non altro quest'altra arma io sono ancora alla ricerca del veicolo ragazzi non l'ho ancora trovato ragazzi ho trovato una cosa impressionante il red dry back il problema qual è che è molto visibile certamente ma ci permette ragazzi di trasportare qualcosa di indecente cioè qualcosa di assolutamente pro nell'angolo guardate ragazzi quanto cibo ci sta e quanti oggetti direi di fare cambio anche se siamo spottabili da 200 miglia di distanza finisco ragazzi di passare tutto e ci ribecchiamo ok ragazzi è il momento di trasferire il nostro nuovo zaino sulle nostre poderose spalle l'unica cosa è che non sono riuscito a cambiare a trasportare ragazzi non so perché non riesco a togliere questa nostra pentola col sistema sotto del gas non chiedetemi quale sia lo scuro motivo ma non si vuole shiftare non si vuole ragazzi togliere ok perfetto andava praticamente ragazzi smontato benissimo allora vediamo un po' esatto il nostro zaino è vuoto e lo abbiamo cambiato con questo zaino rosso che si vede davvero da 200 miglia dunque ragazzi qua c'è un libro i libri ragazzi sono utili perché si possono usare per bruciare per fare tipo della poltiglia da far prendere fuoco molto bene molto bene molto bene e direi ragazzi che possiamo proseguire anche se qui c'è un'altra scatoletta che a questo punto non possiamo prendere perché siamo pieni fino all'orlo ragazzi di tantissime cose anche se posso ricostituire forse la mia no assolutamente no ragazzi mi è venuta in mente una cosa invece di andare in giro con questa maledettissima pentola che comunque occupa molto spazio ne sono sicuro però per adesso ragazzi siamo pieni di cibo e il cibo comunque per quanto non sia da buttare non è scarso si trova abbastanza bene direi ragazzi che preferisco appunto trasportare del cibo in scatola per ora per stare più leggero e per evitare di eccoci qua per evitare di perdere tempo e spazio soprattutto benissimo direi ragazzi quindi che così possiamo marciare è fortunato che troverà chiaramente la pentola ma io qui non ci voglio vivere quindi possiamo anche avanzare aggressivissimo ragazzi non vedo perché non prendere esatto hit em hard bellissimo un tirapugni questo qui è davvero qualcosa di aggressivo però nell'anima direi di prenderlo subito e portarcelo via dunque ragazzi ho finito di luttare tutto il luttabile a me sta e la cosa interessante è che appunto il camioncino dovrebbe trovarsi esattamente ragazzi qua per essere una cosa ah fuck da fucking fraga attenzione ragazzi però perché qui logicamente arrivano e non ci fanno la cortesia questo da cavolo ok beh mamma mia un colpo ragazzi siamo migliorati un bel po' però davvero un'arma storica questa no dicevo ragazzi comunque il camioncino dovrebbe trovarsi in questo spiazzo vicinissimo appunto alla strada principale invece non c'è quindi facciamo due più due ce l'hanno chiaramente portato via ma lo troveremo ragazzi lo troveremo anche noi bene ragazzi allora direi che possiamo proseguire direi di far solamente una capatina ragazzi per riempire un pochino anche lo stomaco d'acqua e decidiamo assieme quale sarà la nostra prossima destinazione dobbiamo però trovare i proiettili ragazzi ne abbiamo trovati davvero tanti ma non quelli giusti troviamo la pompa dell'acqua ragazzi e poi ci rivecchiamo ragazzi non avrò trovato il camion ma ho trovato una bella bionda zombie che appunto non si vuole staccar da me e ne farei un pochino a meno ok biondona ciao bella lì molto bene molto bene molto bene allora ragazzi direi proprio di continuare a cercare la pompa dell'acqua perfetto ragazzi sto facendo il pieno d'acqua col mio personaggio ecco qua sono staffed e in questo istante siamo prontissimi a proseguire la nostra grande avventura io ragazzi direi che da Msta potremmo proseguire seguendo questa bellissima strada la strada principale e tornare verso Staroye dove è presente ragazzi anche un altro veicolo quindi perché non andare più avanti e dare un'occhiatina quindi ragazzi procediamo davvero aggressivi il mio personaggio dice mi sento really full quindi bello pieno e direi che la strada principale prosegue da quella parte e va di là quindi oltre quelle colline c'è il nostro futuro ragazzi che speriamo sia davvero radioso radioso come questo bellissimo sole pro nell'anima andiamo ragazzi con il nostro anche con Marlin scritto nello zaino siamo davvero aggressivi ragazzi ho trovato una pistola rosa da fucking frag cioè la Derringer famosissima pistola che molti dei miei iscritti conosceranno già per il gioco fistful of frags sappiamo bene che è la pistola delle jarrettiere pro nell'anima delle donne del far west e la cosa interessante ragazzi che appunto è la cosa strana più che altro non tanto interessante è che è rosa da fucking frag e forse però abbiamo fortuna perché la possiamo anche ricaricare vediamo un po' questo non ci va bene assolutamente questo non ci va bene assolutamente forse deve essere equipaggiata diamo un'occhiata ragazzi ragazzi possiamo notare che abbiamo trovato anche la nostra grande avventura su dates una Derringer rosa come dicevo pochi innanzi anche le scarpe della casa sono rosa quindi probabilmente apparteneva a una bella donna a una bella ragazza di questa città ma quello che possiamo vedere a parte l'intarsio con il fiorellino è il fatto che non vanno bene nessun tipo di proiettile che ho provato a metterci quindi appunto ragazzi abbiamo 3-4 armi diverse ma nessun proiettile giusto la teniamo certamente è una bellissima arma e può davvero esserci utile casomai in qualche agguato da brevissima distanza ragazzi direi che possiamo procedere rimetto a posto chiaramente tutte le varie armi che ci servono tipo la nostra eccoci qua al posto della Derringer scarica mettiamo un attimo solo la nostra accetta da pompiere e possiamo proseguire perfetto ragazzi davanti al cartello che ci dice best renus stai per uscire da msta che dovrebbe appunto trovarsi ragazzi in questa zona anzi sicuramente una delle casette che abbiamo appena luttato è questa con delle armi dove abbiamo trovato la nostra Derringer rosa io stavo dicendo ragazzi che davanti a questo cartello noi ci salutiamo la prossima tappa è staroie dove sicuramente tutti voi vi metterete a cecchinare per 4 giorni di seguito aspettando che io passi e appena vedrete uno col povero zainetto rosso cosiddetto marlin lo farete appunto a pezzi beh ragazzi sarete sicuramente fortunati a beccarmi ma noi ci ribecchiamo appunto prestissimo ragazzi mi raccomando un mi piace per supportare questa splendida serie che facciamo assieme questo splendido viaggio nell'ande di Deitz come avete notato abbiamo trovato davvero tantissime armi abbiamo tante armi da fuoco purtroppo abbiamo trovato anche i proiettili ma siamo stati un po' sfortunati se sapete ragazzi quali sono i punti esatti con le città i nomi per andare a lutare per trovare appunto le basi militari non mi ricordo purtroppo quali sono mi farebbe piacere trovarlo scritto qua sotto e ragazzi se avete voglia sempre passate la pagina facebook per trovare tutti gli aggiornamenti del mio canale ragazzi io smetto di annoiarvi noi ci ribecchiamo prestissimo con tutte le serie che portiamo avanti ciao da Strenus e chiaramente anche un bel saluto non fa mai male ciao ragazzi davanti a questa bellissima montagna verde ciao in questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli se il video che hai appena visto ti è piaciuto lascia un mi piace lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato alla prossima